E se quei cosi non fossero cattivi come dicono? Insomma, il mare è la loro casa. Noi gli abbiamo dato la caccia, giusto? E se invece li lasciassimo in pace? Li uccidiamo perché uccidono noi. Ma devo rammentarti che uno di loro ha preso i tuoi genitori. Avrebbero dovuto lasciare i mostri in pace. Io non lo so. Oh, sei confusa, ragazza. I tuoi genitori sono morti da eroi. È quello che voglio credere. Ma forse puoi essere un eroe e avere torto. Quello che dici... Quello che dici non ha senso! Perché rossa ci ha inghiottiti? Oh, si chiama rossa! Sì, non è un lui. Credo sia una lei e credo che ci stesse proteggendo da Crow. Stai dando troppa importanza a quel mostro! Lui ti stava puntando una pistola e... Ma puntava contro di te! Attraverso me! Perché tu hai tagliato le cime! E io non voglio discutere, va bene? Non voglio attirare nessuno degli innumerevoli mostri di quest'isola! Dove non saprei se tu non avessi tagliato le cime! E io non voglio saprei se tu non avessi tagliato le cime! E io non voglio saprei se tu non avessi tagliato le cime!